Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola ragazzi. Oggi rispondo ad un signore che mi dice che ha scaricato gli audio di CS del sottoscritto del dottor Claudio Sarecino e mi dice per il figlio che non vuole essere aiutato e mi dice Dottore, mio figlio però mi ha detto, anche se ho visto che si rilassa, che si sente meglio, che qua, che là, però mi dice che perché se ne ha accorto le ha lasciati comunque girare eccetera eccetera però mi ha detto che se non vuole non cambia se non vuole lui. Bene, caro signore, e lo dico anche ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolta, o vuoi o non vuoi, col metodo di CS, l'ipnosi di CS, il risultato è assicurato se segue la lettera e le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota. E soprattutto se sei perseverante, se non ti arrendi, se sei continuo e magari implementi, integri un audio di CS, per esempio no depressione, no droga, no panico, no alcol eccetera eccetera, con altri che possono fare al caso di tuo figlio o del tuo caro che non vuole essere aiutato o che non può essere aiutato. Io faccio un esempio di mio padre nel 2008, ma anche di centinaia e centinaia di persone nel mondo che emettono diciamo 5 audio mp3 di CS non plus ultra, li fanno girare insieme, insieme. Questo insieme porta dei risultati eccezionali, di solito sono no depressione, no ansia, no panico, salute ed esito, no depressione, molto controllo dei nervi e se uno vuole mette anche ego entusiasmo insieme, li fa girare seguendo le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro. Come al solito non credere a nessuna parola del sottoscritto, ma se tu hai scaricato gli audio di CS, l'ipnosi di CS vera e professionale, segue la rete tra le istruzioni e non te ne pentirò. Ti devo lasciare perché la famiglia mi chiama, fammi tutte le domande del caso, visite la mia fanpage su Facebook, ipnosi o di ipnosi del dottor Claudio Saracino, il mio sito internet www.ipnologiassociati.com Iscriviti su questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino e facciate condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me, centinaia e centinaia di persone nel mondo. E seguimi anche sugli altri social, benessere ipnosi, soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao.